Le malattie del sema osteoarticolare entrano in tutte le case e in tutte le famiglie della nostra cittadinanza perché non c'è sicuramente nessun vicino a noi affettivamente parente o amico che non sia coinvolto o dall'artrosi o dall'artrite o dall'osteoporosi oppure dalle malattie autoimmuni. Questo è il contesto in cui viviamo in cui sicuramente la risposta ai bisogni di salute bisogna darla e oggi siamo in grado di darla. Le artriti sono delle malattie infiammatorie articolari che hanno delle caratteristiche ben precise, la reggita soprattutto mattutina, le articolazioni che gonfiano, che diventano dolenti, soprattutto le piccole articolazioni. L'artrosi è una patologia tipica della terza età o dei lavori meccanici fisici troppo usuranti in cui alcune articolazioni perdono la cartilagine articolare e quindi l'articolazione fa più attrito, se così possiamo dire, si accusa più dolore e limita funzionalmente la vita e la qualità della vita del paziente stesso. L'osteoporosi è una malattia silente che purtroppo bisogna riuscire a diagnosticare per tempo altrimenti si manifesta quello che è l'effetto collaterale meno desiderato e devo dire più tragico per il paziente e per le famiglie dei pazienti che ovvero sia la frattura vertebrale o di femore o di polso. Le malattie autoimmuni sono sicuramente, come dire, delle brutte belve perché partire dal lupus, dalle connettivite, dalla sclerotermia, dalle vasculiti, sono delle malattie in cui bisogna intervenire per tempo altrimenti diventano estremamente aggressive per diversi organi e apparati. Oggi abbiamo tantissime armi a disposizione, abbiamo sicuramente delle terapie fortemente innovative. Nel mondo dell'artrosi abbiamo orbai un panel che si può dire che è rappresentato soprattutto dall'utilizzo dell'infiltrazione intraarticolare di gel piastritico che contiene i fattori di crescita delle staminali, le staminali che vengono tirate fuori dal grasso periombelicale e vengono iniettate dentro l'articolazione che sono sicuramente oggi veramente il massimo di quello che si può avere come risposta in termini di fattori di crescita per cartilagini, tendine, dei legamenti e capsule articulari che sono usurate o traumatizzate. Per quello che riguarda l'osteoporosi anche lì oggi abbiamo delle risposte che sono decisamente più valide rispetto agli anni passati non solo con i bifosfonati ma soprattutto oggi con la teriparatide e col denosomab che è il primo biologico nato per l'osteoporosi. E infine le malattie autoimmuni in cui sicuramente abbiamo dei farmaci immunosopressori immunomodulatori a secondo la gravità della malattia per le quali oggi si riesce decisamente a tirare fuori come dire una persona tirandola dai capelli altrimenti per un destino che sarebbe stato talmente diverso e decisamente meno felice. Per tutto questo organizziamo ogni anno un congresso nazionale a Catania che è il congresso nazionale che si intitola Immunoorto Reuma Network che mette insieme innanzitutto reumatologi e immunologi perché il reumatologo oggi è anche immunologo ma anche ortopedici, fisiatri, cardiologi, radiologi, oculisti, termatologi, tutto quello che è legato quindi alle patologie concomitanti che condividono per così dire con il reumatologo la salute nei confronti del paziente che noi vogliamo curare e che vogliamo fare e che vogliamo decisamente fare stare bene. Ne parleremo il 13 e il 14 ottobre al congresso nazionale che viene organizzato a Catania, Immunoorto Reuma Network, vi ripeto, dove verranno a parlare i più importanti reumatologi colleghi nostri di tutte le altre città d'Italia e sicuramente penso che riusciremo a dare delle risposte saustive a tutti coloro che hanno necessità e bisogno di avere risolto i loro problemi di salute.